Ciao bellezze, allora eccomi tornata con un nuovo video, sì sono sul pavimento perché devo assolutamente trovare un punto esatto dove fare video e al momento la lampada sulla scrivania che ho si è guastata quindi devo comprarne un'altra e la luce è pessima, volevo mostrarvi gli acquisti che ho effettuato oggi, pochissime ore fa, sono stata a Lushan e ho trovato un'offerta molto carina riguardo gli astucci, difatti ho acquistato questo astuccio, questo qui, aspettate che si vede, topolino e i Minions, praticamente acquistandoli singolarmente il costo era di un euro, invece acquistandone due praticamente li pagavate due, un euro quindi alla fine ho pagato 50 centesimi ognuno e io li trovo comodissimi questi qua perché non solo li utilizzo per la bambina magari per metterci i pastelli o le cose piccoline ma anche proprio nella borsa sono comodi perché ad esempio vanno lì in salviettine piuttosto che portarmi la borsa cambio perché ormai adesso ha due anni quindi non necessita più di tutte quelle cose che hanno bisogno i bambini inizialmente, mi è più comodo portare questa e portare l'essenza all'interno divisa magari in più bustine quindi queste qua le trovo fantastiche, difatti per questo motivo qua io sempre durante il piede natalizio guardo aiuto sci anche più di una volta e oggi ho fatto il mio primo step di acquisti premessa volevo acquistare il calendario per l'avvento di Rocher ma dopo aver visto un video che purtroppo mi è capitato nella home di youtube e mi sono pentita amaramente ve l'ho guardato non l'ho acquistato, io penso che ci sia un po' troppo questa moda di perché questi calendari prima ok che comunque se uno vuole comprare il calendario lo compra lo stesso partiamo dal fatto qua però si è perso un po' lo spirito che comunque andava la casella e quindi usciva il prodottino mi è piaciuto tantissimo invece l'iniziativa l'anno scorso di Michelinia che ogni giorno apriva una casellina e mostrava quello che usciva ma lo stesso giorno cioè il primo dicembre lei faceva una story su IG e mostrava appunto quello che c'era la casellina invece tantissimi youtuber che per la mondo del cielo sono bravissime hanno mostrato tutto il contenuto di alcuni dei più calendari dei calendari più importanti diciamo quindi Mega Prevolution, EuroShare, Amazon Beauty e quant'altro e hanno tolto un po' quello spirito che c'era sulla sorpresa, di fatti io quest'anno volevo acquistare un calendario sto decidendo ma non più in base magari al marchio ma in base a quello che vorrei secondo me è stata parecchio sbagliata questa pubblicità e questi calendari in questo modo qua comunque piccola parentesi fatta passiamo a Ibrochet, ho speso 50 euro partiamo subito così, dicevo appunto che da Ibrochet c'era anche il calendario dell'avvento ma sapendo già quello che c'è all'interno l'ho preso, anche se comunque ha deluto tantissimo perché l'anno scorso era in fissa con questo calendario, lo volevo perché era bellissimo esteticamente e quant'altro e poi per il titolo esce mi trovo benissimo, solo che non l'acquistai non perché avevo visto un video perché qualcuno fece un video ma semplicemente perché non lo trovai più e di fatto adesso ne avevano tipo due esposti ma purtroppo avendo cliccato su quel video avendo visto tutto quanto, mea colpa non l'ho più acquistato perché la maggior parte delle cose che usciva all'interno già le ho in full size quindi è inutile comunque vanno alle ciance e l'andata da Ibrochet per comprare queste qui allora questo è il primo set che l'ho acquistato, l'ho acquistata sempre solo questa qua ho trovato questo tris che costava tipo 9 euro e singolarmente costano 4,95 euro quindi ottimo prezzo e l'ho acquistata e praticamente contiene due maschere e un gommage molto molto belline e la confezione è bella graziosissima questo come regalo penso che sia super apprezzato poi, anche se comunque è regalo, questo è fatto a me sempre come regalo io credo che acquistare con i sette natalizi di Brochet sia la cosa migliore da fare in quanto comunque trovate offerte strepitose e poi parliamoci chiaro, le confezioni sono bellissime crema mani la più nominata di Brochet appunto manca quello a cocco, però non fa niente perché ce l'ho ancora quindi ci sono appunto mango, lampone, questo che è lavanda sì, questo è lavanda lavanda e vaniglia e queste ragazze sono fantastiche specialmente i vaniglia, un profumo strepitoso e questa qua veniva 12,95 singolarmente mi pare che venissero 3 euro non ricordo adesso, oltre qualcosa, non ricordo comunque mi servivano quindi le ho prese poi per quanto riguarda invece sempre burro alla calda che sono il top del top di Brochet ho preso questo qua che è davvero grazioso perché si può prendere all'albero e c'è in versione rosso e verde l'ho presa rossa e costava 2,50 e comprende appunto una crema mani sì una crema mani e un burro cacao carinissimo il pacchettino è bellissimo ragazzi cioè veramente parliamone sono pacchettini bellissimi per arrivare a 50 euro e uso fine lo sconto ho preso anche questo qua che fa parte appunto dell'altro setto col verde e ho preso solo il burro cacao che costava 2,50 euro aspettate che lo metti a fuoco perché lo metti più a fuoco eccoci qua no ok che fa parte della collezione appunto natalizia poi ok perfetto il set che ho scelto per il viso è questo qui praticamente e l'ho pagato 12,95 no sì 12,95 e comprende la crema se vuoi citarlo che è quella che adoro di più il gel detergente per il viso che è una cosa sensazionale e poi questo qua che appunto è l'esfoliante il gommage che ho utilizzato non mi fa impazzire però il set compendiva questo qua e quindi l'ho preso anche se comunque lo utilizzo non è che se non mi piace non lo utilizzo anzi mi trovo bene solo che lo trovo un po' troppo leggero per il mio tipo di pelle però per quanto riguarda la crema e per quanto riguarda anche il gel li trovo sensazionali veramente la crema la uso anche come base in base trucco è fantastica non lascia la pente unta assolutamente non dà quel senso di appiccicaticcia in faccia si assorbe facilmente ed è bellissima questi erano gli acquisti e la commessa mi ha dato un bel po' di campioncini tra cui elixir che ce l'ho anche in formato mini size se proprio getal perché io non ne posso fare a meno e volevo provare appunto la zero difetti il fondotinta e quindi mi ha dato un paio di campioncini per testarlo perché ne ho finito parlare bene e volevo assolutamente provarlo e questo è tutto mando un grosso bacio e alla prossima ciao ciao mamma oh oh